musica musica felice le grass felice le grass no che io sto andando in piazza ieri col booster no? e allora gli ho detto mi fai fare un giro vieni qua col cappellino te lo fai provare il cappellino ci l'ho messo in gamasca e l'ho scavallato il cappellino ma che cazzo ne sai tu eh? sei leone di lernia rap raga questa roba è tutta anni 90 però non quelli belli gli anni 90 merda della dance quindi andiamo senza indugio a mettere un like una condivisione un commento così almeno senza darmi dei soldi direttamente supporti la causa ragazzi negli anni 90 in italia c'erano tante cose bellissime e la prima su tutta era l'ids no non puoi dirlo ci sono gente che ha avuto dei parenti morti per questa roba vuol dire che si sono divertiti per lo meno i parenti no è che sono morti solo quelli che quelli bravi quelli rotti il culo che sono rimasti qua a chiedermi i soldi in stazione ma una cosa brutta degli anni 90 era il cinema in vacanze di natale 94 per dire pipa papara lo so rifacciamoci a questi bellissimi anni 90 tutte le cose fighe terminator 2 giurassic park no il cinefanettone vai andiamo ma chi è che si ascolta ancora achille lauro guarda io ti dico solo una cosa achille lauro segue questo filone di fare cover versione rock delle canzoni anni 90 però le fa rock non le fa rap le fa rock credo rock an acqua to dance si che è una roba che noi siamo abituati a sentire dai my first and gimme gimme sono tutti quanti quelle che sono state le compilation di punk meets rap punk meets pop cover pop anni 50 punk ma senti ma è un filone in realtà che esiste da tanto tempo ma che i ragazzi della nuova scena non conoscono perché non conoscono poi gli altri generi ma quindi fammi capire adesso salmo shiva achille lauro e tutte queste fare lo stesso genere ed fedez fa tutto lo stesso genere prendere la roba dance tutti nello stesso momento storico guarda caso tu non ti ricordi perché ovviamente sei molto giovane o comunque non ti sei interessato mai ma c'è stato un periodo qualcosa come dieci anni fa dove tutti quanti facevano le cover degli anni 90 dieci anni fa ma è esattamente identico eh? nello stesso periodo nello stesso periodo tutti fanno tutti la stessa cosa nello stesso momento può essere che siano leggi di mercato non scritte ma che si tramandano ho capito o può essere che ci avete ammorbato la waller speriamo che almeno che sia bella non è la seconda vai solo il mio dubbio è che ci avessero ammorbato la waller visto che Daniele Fada non ne capisce un c***o di musica ma io vi dico che questa roba è praticamente la replica di dieci anni fa che viviamo ogni volta nello stesso periodo storico quindi poi c'erano dei miei c***o cosa c'erano dieci anni fa? era il 2010? il 2012? c'erano tutte quelle robe che ti dicevo come punk ghost pop punk ghost... punk means cazzi poi c'erano i my first in Dimmi Dimmi che facevano tutte le cover che erano Mattino FX si 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 però non lo riconosco che facevano una roba punk rock invece e noi invece abbiamo a Kille Lau vai FM 19,90 amore in pidale però mi hanno detto che il disco è bello tutti i mandatori del disco bello ma infatti io sono convinto che se tu rifai una canzone bella sempre meglio sempre meglio del rap vai ah ma sono tutte cover? sai che non so se ha prodotto stranissimo che non ci sia nell'ombra di Boston credo che non lavorino più insieme allora bello questo recital spicherato con una dizione perfetta che in Italia è l'accento romano vai 1990 dance wow eh vabbè però quando prendi dei classici vai sul sicuro eh però ricorda che abbiamo avuto anche la prova che i classici belli siano anche rovinati eh basta che non sei sciva beh sì Achille Lauro sono a base che ci ha sentita ma insomma preferivo quella normale no no a me mi dispiace mi piace molto beh rispetto a quella normale è molto più bassa Achille Lauro ma a me non mi dispiace ma a me non mi dispiace ma a me non mi dispiace questo pezzo dai dai mi piace un botto sì mi ricorda le serate dove facevo il bicchieraio al celebrità e mi viene voglia di spararmi in bocca capisco se il voler prendere il campione originale così magari anche non troppo figo fatto bene eh perché l'abbassato tutto di tono di velocità di quello che stavo dicendo io no dicevo io dicevo il campione che ha preso sembra di bassa qualità a confronto tutto il resto probabilmente ha scelto di utilizzare il campione originale che era di qualità quella che c'era e dà la pasta proprio quella che era negli anni 80 90 capito di cassetta rimasterizzata si bravo a me non mi dispiace questo analogico no ma il prodotto in sé va bene mi ricorda proprio la classica sette in discoteca dove io facevo il bicchieraio che mi prendevano in giro intanto se hai bicchieri puliti è grazie a me c***one che stai pagando 15 euro un cocktail solo di ghiaccio con le sputazze dentro e sai cosa mi fa venire in voglia di tutto questo mood anni 90 di drogarti in botto no andiamo da fanculo due settimane nei boschi e non sentire più musica bravo allora ragazzi noi da settimana prossima anzi diciamo che questo è l'ultimo video che faremo sul canale per quanto riguarda quest'estate e ripartiremo penso a settembre però non vi lasciamo da soli perché abbiamo girato dei piccoli format come xfaddon che verrà pubblicato ogni giorno come se fosse un piccolo video abbiamo fatto degli ottimi montaggi grazie a Fada Enfisemic e niente speriamo di tenervi compagnia quest'estate anche quando non ci siamo vi ricordo che se vi siete persi gli altri video potete guardarli ma se volete stare con noi su Instagram faremo tutti gli aggiornamenti quindi seguiteci tutti su Instagram ma soprattutto potete seguirci anche su Twitch dove ci alterneremo a fare delle live quindi tutti i giorni probabilmente troverete delle live importantissimo seguiteci su Instagram per gli update andiamo avanti si andiamo avanti che prima finiamo prima me ne vado FM 90-91 3 ore a notte io non capisco perché mette la frequenza questa è una testimonianza ma credo che siano forse le discitte ma figo tipo radio ma poi mi senti magari capisco il concept mi ricordo il concept come se stessi ascoltando la radio in macchina quelli con tutti i pezzi dance anni 90 da radio e gli skit sono i vari FM di lui che speaker ha su una base concettualmente è figo che fa tipo il vocalist sul coso lo vediamo come un concept album è figo ha senso è un concept album un po' scarman poi ti dico non mi dispiace il fatto che ripenda queste hit perchè le stanno lavorando bene no ma se entri in questa concezione si mangia i phonics mi ricordano, te li ricordi? è tipo la più veloce di Deborah beh è strabitro, fa il suo beat stop è vero mi piace come hanno lavorato i suoni molto densi beh questa è la più forte finora eh penso che c'è anche il simbrio simbrio estratto ma lei sta con me dicevano no quello non va invece poi sta in botten supererole baby non ci dare retta siamo impazziti in fretta con lo studio in cameretta con il tuo studio in cameretta un po' più veloce ma mi fa morire che lui è il romanaccio del m***a cioè le butta proprio lì ma è simpatica ho 16 anni che lo fa ormai non mi stupisco nemmeno ma poi è molto più marcata con la dance ti dico che non l'ho trovata così bella ma allora ragazzi non guardate mai che mi sto ammorbando la Waller perchè a me la dance non piace quindi è solo un caso a parte Fada che gli piace molto guardate lui guardate i faccetti di Fada non le mie perchè a me la dance non piace soprattutto quella rappata vero Danzi tu sai che posso essere chiunque dopo aver banchettato quei diavoli tutta l'esistenza che si srotola insieme alla solitudine è anche poeta sai cos'è? che fino adesso hai detto che hai sempre cercato qualcosa di interessante dei concept delle cose diverse da quello che ti è stato propinato adesso che c'è una cosa diversa la schifi perchè a me la poesia non piace come la dance ma posso avere dei gusti però stiamo parlando di una linea temporale dove è tutto standardizzato e in tutto standardizzato arriva una ventata d'aria fresca che arriva dal passato quindi secondo me è proprio da apprezzare il fatto che lui riesca in una situazione di piattezza musicale ad avere delle variazioni che ti portano prima di tutto delle vibes che sono anni 90 e sono quelle della nostra zona di comfort ma soprattutto a tirare fuori dei testi e anche delle argomentazioni in un concept album che ha un senso reale di vita al di là di quanto il personaggio Achille Lauro si è inventato uno dei personaggi che viene più cacchierato che ascoltato si questo è un prodotto di grande qualità è un prodotto di grande qualità posso dire la mia sul mio gusto personalissimo ma gusto personale è un discorso ti dico dissonanza emotiva se questa poesia ti ha voluto fare facevo una canzone io l'avrei apprezzato di più ma manca l'idea di skit che è poi una roba che viene da lì eh perché poi qua le canzoni sono densa anni 90 quindi il testo è O esatto e quindi c'è lo skit e quindi il contenuto è nello skit esatto di solito è contrario però se guardiamo la cosa come concept ci sta tu fai un'introduzione del pezzo che poi vai a ascoltare esattamente come un DJ da radio farebbe per un testo per un testo che non ha il testo allora ci serve l'introduzione Sweet Dreams eh beh questa l'ha rifatta tutti anche Jamil porca put***lla quella di Jamil eh beh a parte questa linea vocale è sempre stata bellissima questa italiana quanto mi sei divertito Andalisa facile divertente veloce eh però si dica di tutto c'è un lavoro di produzione vaga che è fantastico beh capito apre eh ma lei è giusta ha ripreso la tratta riflessioni che se no mi dimentico due robe non c'è più musica bella bisogna campare sui vecchi successi e giustamente bisogna dargli uno smalto di nuovo perché non è che puoi ancora ascoltarti la roba di 50 anni fa perché la musica anni 80 ormai sono d'accordissimo anche se ancora 40 anni fa anche se ancora la musica si però gli hai dato una pimpata nuova una colorata ci sta eh siccome la gente non è più in grado di fare roba nuova perché ormai non puoi più creare roba nuova e le cose belle nuove particolari orecchiabili sono rarissime si campa sulle vecchie glorie e si dippa questo disco o ti piace perché fondamentalmente è prodotto bene lavorato bene ideato bene il concept è intelligente eccetera o ti fa schifo perché devi dire preferivo quella vecchia e va bene quindi o carne o pesce non ci sono vieti in mezzo poi se non ti piace la dance come a me non te lo ascolterai se ti piace la dance come a lui lo apprezzerai tantissimo su di qua su questo non ci piove però ricordi sempre che i ragazzi non hanno gusto sulla dance perché probabilmente non c'è non c'è non c'è quindi questa può essere la nuova dance per loro anche se è una roba vecchia io parto io parto queste sono le mie considerazioni che secondo me ci stanno esatto esatto quello che ho detto ho fatto un quadro generale di come lo vedo io perfettamente anzi ti dico di più io sono iniziato pensando non mi piacesse perché l'idea di una roba talmente vecchia riportata un'altra volta che è ancora ste cover ero totalmente d'accordo con te però trovo che dietro in realtà non è che sia stato buttato lì così in un lavoro cioè qua c'è un lavoro di produzione anche musicale e di attenzione di featuring perché tutti sono stati chiamati probabilmente per fare la parte giusta perché guarda che anche Salmo e Galli quando hanno provato a fare i pezzi dance non avevano quel catchy che aveva la dance vecchia ma qua hanno preso i campioni qua hanno preso direttamente le cover perché ormai è difficilissimo fare sta roba di comunque raga analisa su sta roba tanta roba vai re della miseria miseria qua direttamente da ragazzi madre no Beppi adesso Beppi cosa è Beppi che lei è Alexia e beh certo è l'originale ecco perché c'è ehm oh porca p***a mi è tornata adesso Festival Bar 98 ah bella, 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 bella bella, bella questo cuore in coppa grone e lo muerdi piano immenso abri e scappa sopra un Porsche ha dovuto fare il malandrino lei è da style? eh non mi chiamo cazzo peccato stavolta i quattro quarti li volevo volevo proprio una cazza dritta proprio mezza mezza vi bezza strada bottiglia a Tennessee con Achille a Roma Termini spiega mi dove andare se conosco solamente questa street pensavo solo a riempire jeans come chi preferisco capofrasa a Achille ha rifatto più di Gemini che pezzetto raga che pezzetto tutto giusto poi a chiamare Alexia è tocco di classe vai a boh Maria a boh Maria corona capo di scresi capito un po' capito un po' bella wow ragazzo che si occupa della produzione ha fatto un grandissimo lavoro la tiva e go drive la tiva e go drive sapere le strade di brebbia io l'amico che si incazza più in fretta che prima di partire si toglie la maglietta noi in provincia questo siamo gli unici ma scoprò tua figlia prima che fai i nuni dentro casa tua come se casa mia mi fa abbassare i jeans come la polizia al fatto io Dio non c'entra Dio non c'era prego Davidino che esca di galera che ritorni a brebbia produzione cine e mi imparo dalle polveri impara di tu con gli amici miei i miei ragazzi di ricordati una chiamata di cambiare la vita quando decidi di cambiare via cioè mi hai reso una canzone che era molto carina disimpegnata con un forse l'unica una roba molto cazzo forse è l'unica questa che ha anche un testo oltre all'intro perché qua l'intro è la preghierina perché poi si ritrova dentro Dio non c'entra ce l'ho fatta da solo però prego per i miei amici che questa è l'intro giusta che era figo quindi questa ha anche un testo oltre ad essere dance tanto per ballare beh quella con capo plaza ha dovuto fare la roba di strada e va bene però gli altri insomma erano molto tutte d'amore del capo non immaginavo che Massimo Pericolo potesse starci così bene soprattutto ripeto in un pezzo così che doveva essere party fa una roba così malinconica molto molto bella e anche Achilles molto malinconica e riprende molto il mood di ragazzi madre sempre questa roba di parlare di quando lui non stava bene e di ormai non altro beh ma ci sta perché lo schietta all'inizio era Ave Maria quindi ci sta che questo sia un pezzo un po' più pesante vai il banco degli imputati cos'è questo Adam Song Adam Song ma c'è il banco di imputati però io con tutto il rispetto per quello che scrive ma non riesco proprio a sentire però farlo sentire a me al di là degli spoghi di coscienza gli spoghi lo scritto il mood però se già lui non apre la bocca quando parla tutto questo diverbero sulla voce questi bassi che uno deve fare uno sforzo una fatica per capire che cazzo dicendo io a livello stilistico non mi dispiace mi piace mi piace sentirlo io lo trovo pesantissimo cioè con tutto il rispetto per quello che ha scritto il concept è bello è figo però capisci che per tante persone può essere veramente pesante per altre tante può essere non pesante cioè cioè io blu l'avrà rifatta come sciva autoblue speriamo di sì così almeno lido non so neanche se sia blu da badim da badim ha anche più senso nel remix di sciva perché almeno l'ha rifatta l'ha rifatta tutta dai blu blu sì è l'unica bella fatto l'elenco no pillole blu coci blu macchine blu vestiti blu questo è l'arbo basso però almeno l'ha cambiata questo è l'arbo basso l'ha rifatta completamente bella cani blu gatti blu lo trovo personale idealmente il fatto dell'avere la voce spezzata bassa mi piace tantissimo il fatto che riesca a tenerla e riesca a farla quella nota così bassa spezzata è fighissimo a livello tecnico niente da niente beh perché come te non sta cantando è spicherata quindi non è che sta tenendo è un melodico molto basso che riesce a tenere quando tu vai in voce bassa se non hai controllo la voce si spezza lui la sta cantando a voce bassa tenendola adesso io non so ovvio che però non sta cantando a voce bassa come un baritono che deve avere anche un rant no sta cantando a voce bassa alla DDP che c***o si chiamava quel gruppo lì fondamentalmente tecnicamente qua c'è adesso non so quanto sia in studio e quanto sia dal vivo a me piace il fatto che hanno rifatto forse perché l'ha bruciata shiva però l'hanno rifatta completamente questa qua e va bene io penso che e sai che ieri sono andato a parlare con certe personalità della musica in Italia la comprensibilità delle parole è tanto soprattutto se devi passare in radio come artista se devi fare la dance però lo fai apposta perché come dici tu a te piace tantissimo ci sta perché hai preso questa fascia di pubblico io lo trovo un prodotto che si distacca dalla dance per come la concepivamo noi questo è un prodotto dance 2.0 dove metti all'interno un'alternatività nella voce perché ricorda anche quelli ma è tutta una scelta stilistica però è una scelta stilistica che può piacere non piacere io la trovo veramente pesante a me che piace ascoltare le parole delle canzoture tu lo sai a me piace ascoltare il messaggio le parole anche se mi devi dire mi fumo la c***a tutto il giorno mi piace sentire le parole così lo trovo un po' più pesante anche quando fa lo spicherato io magari voglio sentire uno spicherato e dire mi f***a che figata una mezza poesia mi ricorda se non ti piace Achille non te l'ascolti no ma Achille non mi dispiace ma il discorso anche quando ho fatto quelle cose che mi ha ricordato il programma radio di Diego Cugia no? è Alcatraz se io devo fare veramente uno sforzo mentale per capire che c***o stai dicendo perché c'è il basso c'è la voce è distorta già tu non apri la bocca quando in più c'è la cosa romana a me lo trovo provante io però posso capire che non sia un genere per tutti che sia un genere che venga inserito nel mercato e poi chi ha piacere ad ascoltare lo ascolti però pensaci uno skit così tu vuoi veramente dare importanza a quello che vuoi comunicare a quello che hai scritto secondo me qua è importante il prodotto non il prodotto come prodotto come commerciale ma come pacchetto intero però prendendo lo skit di per sé ma se tu lo metti in un'altra maniera è diversa poi la vibes che ti darebbe la voce sarebbe da doppiatore e diventerebbe quasi impersonale secondo me con una roba del genere è più personale è più personale cose perde però io preferisco che ci sia meno plastica cioè a livello musicale è perfetto è un disco che potevassi ne suonare plastica non è plastica no 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 ma infatti io dico a me che non piace la dance assolutamente no infatti purtroppo l'avete visto non posso dire che è fatto male che io se dico a mio gusto personale e magari a tanti altri pecca un po' di comprensibilità delle parole ma come lo peccava madame in qualche pezzo come tante persone che ho sempre fatto la critical e il mumbling non si chiama a izzy l'ho sempre detto anche a izzy che bello 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 ma non capisco un c***o più comprensibile di izzy questo però vedi che non è una critica che faccio solo a lui è una cosa mia che dico in generale ragazzi qua sotto fateci sapere anche voi cosa ne pensate in generale non basatevi su di noi dateci i vostri anche perché io e lui siamo totalmente spaccati questo disco fm20 e poi non è shespie perché allora magari sono le casse che io ho qua al basso e quindi magari sento più il basso nella generale essendo una stanza trattata al basso è molto alto quando facciamo sta roba raga è sempre una first listen con le k-rk qua rocket 5 che abbiamo se donate ce le compriamo nuove I wanna be an illusion non me la ricordo il nostro amore è come funziona la polvere bianca che scorre dentro la dissidola questa è la bomba si perché è solo con le mie chiesi sulle parole è schifato il video non è buttato il video sei mango sei l'inferno in cui voglio bruciare gli sfigati della 2 le signorine della 18 non ci sono cazzi quando c'è dentro la produzione seria il boss della 23 si parte poi devo fare il giustraio la reaction finisce qui personalmente penso che quando c'è una persona tecnicamente forte alle produzioni e che hanno una concezione musicale può piacere o non piacere ma il disco è bello deve venire cioè viene bene il disco è perfetto è perfetto per quello che deve fare Achille Laura adesso per quello che è Achille Laura adesso e per quello che ha scelto di diventare non puoi dirgli un c***o giusto l'unica cosa che sì 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 che io ho detto si capisce poco alcune frasi ma vabbè tanto è house c***o te ne frega una cosa io sono molto 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 contento che adesso tutti i rapper sono venuti fuori per quello che sono ossia dei tamarri di merda così tutti quei tamarri di merda che andavano a ballare a Diabolica con i culi in fuori e alla Preside Pegale e al 2 di Ciliano se ne ritornano in quelle m***e di discoteche e ci lasciano libero il rap e tornerà il rap una roba da Puzzoni 4 st***i ma almeno fatto bene tornate a ballare la dance per favore riportatevi anche Fada portatevelo e boom e tu rimani a fare il rap con le 4 st***i in realtà io ti dico che questo non è un prodotto mainstream non è un prodotto dance no è più ricercativo ricercato ed è veramente difficile incanalarlo in un in un ma secondo me invece è talmente ricercato e difficile che può prendere un po' tutto può prendere la dance può prendere il rap con i vari featuring che ha fatto può prendere la serata ignorante trans party posso dire che secondo me questo è un disco destinato in realtà a rimanere e non ad essere ascoltato una settimana e buttato via perché questi remix te li suoni quanto cazzo vuoi sì perché essendo dei classici remix classici fatti bene hai capito si punta a farli durare altri almeno 20 anni come i pezzi normali e a questo punto chi è lo str***o? è lo str***o? il vostro rapper preferito che fa il disco per una settimana o il vostro extra rapper preferito che ha fatto un disco probabilmente per però l'hype è tre mesi in che senso? il disco dura una settimana ma l'hype prima tre mesi dov'è certo loro vendono l'hype tre mesi prima i venditori di fumo io spero che veramente con sta roba qua lui si consacri su questo e raga ma siamo proprio contenti tanta roba poi può piacere starti simpatico poi raga poi ve lo ripeto a me che la dance e l'house e l'elettronica ha sempre fatto schifo ma come genere non ho detto che il disco è brutto ma come no ma perché sarai un coglio che non capisce un c***o di musica dire che è brutto il disco totalmente d'accordo ovviamente noi abbiamo sentito nella versione deluxe e non la versione normale perché tanto quella normale era di 6 pezzi ragazzi grazie per averci seguito ci vediamo a settembre fate i bravi ricordatevi che c'è sempre anche TRX Radio da ascoltare sì ciao